L'estate è uno stato d'animo, buon divertimento! Grazie a Giovanni e a tutto il kit da Eschini Auto, perché quello che stiamo vivendo questa sera è sicuramente qualcosa di qualità di diverso. Credo che l'iniziativa come quella di questa sera sia un importante messaggio anche alla città. Grazie a tutti! Forza, venite qua sotto il palco, la grande famiglia Eschini! Questa è emozione pura e vi ringrazio a tutti, complimenti! Grazie a tutti!